Ciao, sono la dottoressa Elena e oggi ti voglio parlare delle intolleranze alimentari. Si sente parlare sempre più spesso di questi tipi di affezioni. Non sono delle vere e proprie allergie, come può essere la celiachia o l'intolleranza al lattosio, che scatenano delle vere e proprie reazioni immunitarie in modo massivo, ma sono dovute a alimenti che, associati magari in modo sbagliato, vanno a sovraccaricare l'organismo e quindi creano delle situazioni di infiammazioni basali. Queste possono provocare problematiche come difficoltà digestive, gonfiori addominali, aumento di peso o anche diminuzione di peso. Possono provocare mal di testa, ezemi, orticaria e anche altre problematiche. Si è visto che nella maggior parte di queste affezioni vi è il coinvolgimento di un'alterata florobatterica intestinale. Quindi l'utilizzo di probiotici specifici migliora sempre le condizioni delle persone che soffrono di intolleranze alimentari. Se sei intollerante o credi di essere intollerante a qualche alimento perché hai tutti i sintomi che possono ricondurre ad un'intolleranza, ti consiglio di utilizzare l'actobacillum fermentum insieme all'actobacillus acidophilus e all'estratto di grifola frondosa, l'L-cistina con l'L-teanina, l'actobacillum rhamnosus insieme all'actobacillus acidophilus e l'L-teanina, l'L-cistina, l'actobacillus rhamnosus insieme al bifidobatterium longum.